Questo posto è orribile. Regan, è tutto pronto per la 1-4. Aspettano solo te. Andrà bene, vedrai. Intanto gridava, ti amo, ti amo, puttana! Mi telefonava in ospedale e diceva, figlio di puttana! Ormai ha i giorni contati! È un po' troppo. Forse è così un po' troppo, lo so. Volevo solo darti la gamma di emozioni, capisci? Non è stato un incidente. Cosa vuoi dire? Voglio dire che sono stato io. Questa gente non sa di che cosa sei capace. Sei davvero nella merda stavolta. Hai distrutto un capolavoro letterario con un adattamento guerile. E ora stai per distruggere ciò che resta della tua carriera. Sei patetico. Andiamocene da qui finché siamo in tempo. Hai passato una vita a crearti il conto in banca e una reputazione e ora li hai bruciati entabili. Va bene comunque. Fanculo. Torneremo sulla scena. Stanno aspettando qualcosa di grandioso e noi gliela daremo. Lo che devi fare è... Lo che devi fare è... Ferma la musica. Ferma la musica. Ferma la musica. Grazie. 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 Grazie.